GF VIP, Martina Nasoni, rivelazione a Oriana Marzoli Daniele Dal Moro cosa le ha detto? GF VIP. Nella casa del grande fratello, un po' a sorpresa Oriana e Martina si sono confrontate su Daniele e sul suo modo di essere. Oriana ha infatti sentito la necessità di parlare con qualcuno che conosce meglio di lei il ragazzo. Oriana ha infatti chiesto a Martina, voglio capire un po' come fa e Martina le ha spiegato, se tu gli dici fidanziamoci lui va in tilt. Ma non perché non gli piaci ma perché ha paura. Oriana ha poi aggiunto, che gli piaccio in quel senso lo so. Però non voglio che si fermi qua. So che gli piaccio anche come persona, non voglio che finisca qua. Voglio che vada oltre, fuori, perché mi piace veramente. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion e Italy Music. Summer from Benson.com. Leggi anche, GF VIP, Tavassi, questa è la cosa più grave che ha fatto, mentre Daniele riposa Oriana lo ha fatto sulla sua faccia. Ciao Ciao Grazie a tutti!